Ciao a tutti. Oggi Chris ed io discuteremo di fratellastri. Il film era ambientato in California e raccontava le lotte tra due fratellastri. Il film parlava di due adulti che si comportano come bambini di cinque anni. Will Ferrell forse interpretava il ruolo Brennan Hough e John C. Reilly forse interpretava il ruolo di Dale Dobeck in il film. Loro hanno un bromance che è forte. Così, mi sia piaciuto il film molto. Pensavo che il film fosse molto comico. Anche io ho preferito la scena di un festo divino. Credevo che sia stata la scena migliore del film. Quando Will Ferrell che cantasse John C. Reilly che suonasse la batteria per gli ospiti, io stavo ristato e io penso che la scena fosse molto bravo e spazzato. Non mi sia piaciuto il film molto. È molto inquietante. Credo che il Doretto abbia pensato il film era divertente. Will Ferrell e John C. Reilly che distruggevano una festa di vino. Il film mostra non devi mai essere grave nella vita. Guarda il film un'altra volta. Brucia il film invece! Vedrò tuo esame finale.